Incontro tra Italiano e la dirigenza della Fiorentina. C'è la decisione sul Napoli. Continua la caccia al futuro allenatore del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis, che ha lavoro per individuare il profilo più adatto. Uno dei nomi sulla lista del Patrono Azzurro è senza dubbio quello di Vincenzo Italiano, anche se il presidente del Napoli non intende forzare la mano con la Fiorentina, dati i rapporti amichevoli con la proprietà Viola. L'esito dell'incontro di oggi tra Italiano e la dirigenza Viola però ha definito le sorti del suo futuro. L'incontro infatti pare abbia avuto esito positivo. Entrambe le parti hanno manifestato la volontà di onorare il contratto. Vincenzo Italiano quindi dovrebbe restare sulla panchina della Fiorentina anche per tutta la prossima stagione. Domani alle 11 Rocco Commisso terrà una conferenza stampa nel corso della quale potrebbe confermare il futuro in Viola del tecnico. Italiano quindi è da depennare dalla lista di Aurelio De Laurentiis. Chi vorreste come futuro allenatore del Napoli?